La città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida. presentato dal professor Pierluigi Sacco, che resterà una base per un grande laboratorio e dei progetti validi da attuare. La filosofia sulla quale si è basata l'Aquila è stata quella del Kintsugi, l'arte giapponese di riempire le crepe degli oggetti con l'oro, per dare un nuovo valore a questi, una crepa simbolica rappresentata anche dal logo scelto dalla città, sul patrimonio culturale, ma anche un fulmine come segno di energia. Sembrava giusto, ha detto il sindaco Biondi nella conferenza stampa delle 12, al di là del risultato, raccontare il progetto che è stato ampio e condiviso. Nasce dalla condivisione, infatti, con altri comuni e con la regione, portando anche l'apprezzamento di altri territori, basandosi appunto sul concetto di città-territorio. All'Avitorium del Parco si sono ritrovate le istituzioni culturali aquilane non solo, che hanno dato manforte al progetto mettendo in campo il loro significativo contributo. La vittoria di Procida, sostenuto Biondi, dimostra che la cultura si può fare non solo nelle grandi metropoli. Un pensiero dall'Aquila è partito per le vittime poi della tragedia di Rigopiano, al quale, se si fosse ottenuto il riconoscimento, sarebbe stato dedicato oggi. Si riparte comunque dalle cose positive che questa esperienza lascia, ribadisce Biondi. Un pizzico di delusione naturalmente c'è per il mancato conferimento del titolo, però di contro c'è la soddisfazione comunque perché è stato scelto uno dei tanti posti incantevoli della nostra nazione, un piccolo luogo, quindi un po' una rivincita anche che supera il concetto che la cultura si possa fare solo nelle grandi metropoli, che è un po' quello che avevamo detto anche noi. Resta però il grande lavoro che è stato fatto, il grande sforzo di partecipazione, di condivisione. Lavoreremo da subito nell'ambito dell'iniziativa del Maxi Città come Cultura proprio per raccontare come questa città si stia trasformando e come l'elemento culturale sia un fattore decisivo di non solo di coesione sociale ma anche di chiusura di un percorso straordinario che abbiamo fatto nell'ambito della ricostruzione. Grazie a tutti.